I 100 milioni sono usciti dalla Minotauro e hanno iniziato a rimbalzare per mezzo mondo. Stanno cercando di renderli irintracciabili prima di farli sparire in qualche paradiso fiscale. Questo sempre che qualcuno non li prenda prima. Avvocato Piazza. Lei è una risorsa preziosa. Vado a dire Buraghi, io la ringrazio, ma purtroppo devo scappare, un altro appuntamento. Commissario Valerio Di Leo. Ma di che parla che vuole da me? Allora, come procedono le indagini sul clan Corapi? Non ha nessuna novità, dottore. E la bella avvocatessa? Chi incontra? Nessuno. Devi aiutarmi, Magia. Mi dispiace, ma non posso. Ma perché, cazzo, è tuo zio? Mai è il numero due dei Corapi. La sua andrina muove miliardi, molti dei quali qua a Milano. Papà, sono i cattivi quelli. I più cattivi di tutti. Aonde è, Abila? Aonde si mi sordi? E' una gittara sanguida, i sozzini sono puti, tutta razza di Corapi. Puti in 48 ore, compà. E' ma di portavaker. E' ricendova leoni. Aonde sui, sordi. Tieniti! Sono tutto morti. Ti fa una chiamata da santa. Non si può dire di no a santa. Mi sarebbe piaciuto conoscere mio padre. Si sentiva il più furbo di tutti. Ed è per questo che l'hanno ammazzata. E non è la verità?